Abbinato alla tessera 251 è il socio Pazzaglia Danino. Fa il metal meccanico, ha 60 anni ed è cresciuto a pane e carnevale. Danino Pazzaglia, nato in Belgio ma fanese nel cuore, è il secondo vincitore di un posto al getto, la nuova iniziativa promossa dall'ente carnevalesca. Durante la prossima edizione del Carnevale di Fano, in programma per il 24 e 31 gennaio e 7 febbraio prossimi, Danino avrà la possibilità di salire su un gigante di carta pesta e lanciare quintali di dolciumi durante una domenica di sfilata. Un'esperienza nuova alla quale ci avevo sempre pensato e che è venuta così, giusto, dopo aver fatto l'iscrizione come socio alla Carnevalesca. Però lei non è nuovo ai carri, ci ha lavorato insomma, in parte? No, ho collaborato, ho collaborato qualche anno con Riccardo Deli, un maestro carrista, anche tanto bene, siamo in ottimi rapporti, siamo amici. E anche lui è uno che ama molto il Carnevale. E poi anche, come diciamo così, a fare i balletti sopra il carro quando eravamo più giovani. Una cosa bella perché è come passare dall'altra parte della barricata, no? Magari, oh, butta, guarda, sì, magari, invece magari adesso sei da di là e magari ti senti chiamare, oh, guarda, non butti giù niente, tutte quelle robe lì sono. La novità dell'estrazione è venuta in diretta all'interno del nostro telegiornale, dedicata a tutti i soci dell'ente Carnevalesca, arrivati a quota 770. La tessera, che anche quest'anno prevede ingressi omaggio, sconti e prodotti no gastronomici del territorio, potrà essere sottoscritta nella sede di Piazza Andrea Cossa o all'Info Point di Piazza 20 Settembre, aperto per l'occasione anche il giorno dell'Epifania. Solo così si potrà partecipare al terzo sorteggio, che comprenderà comunque i primi 600 tesserati e da cui saranno esclusi i soci che compongono il direttivo. Uno degli obiettivi del presidente Luciano Cecchini è quello di arrivare a quota 2000. È già partita la grande, la grande lotteria di beneficenza del nostro Carnevale e, come sempre sapete, la bellissima AutoCarle, il primo premio. Comperate i biglietti dalle nostre associazioni e tutti insieme faremo beneficenza alla Mensa dei Poveri di San Paterniano. E approfitto ancora una volta di farvi tanti auguri per questo meraviglioso 2016. Grazie. 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 Grazie.